numeri positivi nelle bilancio delle primo anno della nuova azienda sanitaria pesarese protesta dei trattori in 150 sfilano in corteo per fano contrasto le tossicodipendenze compie 30 anni narcono un alfiere studenti pesarese elezione dal direttore nazionale dell'agenzia delle entrate calcio 5 un nuovo sponsor rafforza la famiglia ital service una buona serata telespettatore di rossini tv e benvenute questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi venerdì 16 febbraio che apriamo parlando di sanità compie infatti un anno la neonata azienda sanitaria territoriale di pesaro urbino frutto della riforma sanitaria regionale che ha portato ad azzerare l'azienda ospedaliera marche nord e l'asur oggi la regione ha presentato i primi risultati di un anno di attività e le sfide per il futuro vediamo il servizio quasi 17 milioni di euro di investimenti fra apparecchiature sanitarie e interventi di adeguamento strutturale un trend in crescita dei ricoveri programmate con l'aumento del 4,5 per cento di mobilità attiva e oltre 400 mila prestazioni ambulatoriali in più rispetto al 2002 con oltre un milione e mezzo di impegnative erogate e questo il bilancio presentato oggi in regione del primo anno della neonata azienda sanitaria territoriale di peso urbino l'unica in regione che ha richiesto un'integrazione tra due realtà distinte generate dalla riforma sanitaria regionale i risultati che abbiamo visto in questi mesi sono molto soddisfacenti soprattutto perché siamo riusciti a mettere insieme due realtà completamente diverse una esclusivamente ospedaliera una territoriale e contaminare le due realtà l'uno del bene dell'altro gli investimenti sono fondamentali e li stiamo utilizzando i fondi messi a disposizione dalla regione dal PNR in secondo la tempistica prevista perché avere delle strutture moderne delle tecnologie nuove attira anche i medici e professionisti perché trovano in queste strutture un qualcosa in più rispetto a quelle dove stanno lavorando sono tecnologie di alta qualificazione tipo l'acceleratore lineare nuovo per aumentare i trattamenti radioterapici ridurre le liste d'attesa per i pazienti oncologici ma anche tecnologie di tipo diagnostico come risonanze magnetiche angiografi e TAC. La sfida per la politica sanitaria della regione Marche è quella di dotare l'azienda dei servizi che i pesaresi negli ultimi anni hanno domandato in parte anche in Emilia Romagna quindi gli interventi che noi abbiamo fatto tendono a potenziare soprattutto i servizi territoriali l'accentramento dell'unico ospedale a Pesaro aveva creato uno sbilanciamento noi stiamo rilanciando anche approfittando dei fondi PNRR gli ospedali di comunità quindi ci troviamo in presenza di un'offerta piuttosto ampia che è stata oggettivamente potenziata che parte da Sassogorvaro, Macerata Feltria, Fossombrone, Cagli, Pergola e poi tre hub di primo livello che sono Urbino, Pesaro e Fano però vorrei ricordare che Pesaro ha un ospedale che seppur è inquadrato negli ospedali di primo livello ha delle specializzazioni di secondo livello per noi la sfida è quella con l'atto aziendale che l'azienda dovrà adottare entro le prossime settimane il prossimo mese è quella di restituire i servizi ai cittadini di una delle più importanti province La realizzazione del nuovo ospedale oggi è un dato certo, c'è una progettazione che è in corso e ci si augura a tutti che quanto prima si arriverà ad avere un cantiere ma soprattutto anche gli interventi che verranno realizzati a Fano e tantissime altre realtà della provincia di Pesaro Urbino restituiranno non solo dal punto di vista materiale ma anche dal punto di vista tecnologico sicuramente un'azienda più forte, più competitiva e io sono convinto anche più attrattiva anche perché tutti noi sappiamo che la sfida della sanità nella provincia di Pesaro Urbino è particolarmente sentita perché è oggettivamente importante frenare quella mobilità passiva che penalizza il sistema sanitario pesarese ma anche tutto il sistema sanitario regionale e fare di quell'azienda un punto di riferimento che dreni la mobilità passiva e si può drenare la mobilità passiva solo riuscendo a conferire tutte le prestazioni che i cittadini nostri marchigiani ci chiedono e farlo anche con una capacità di soddisfazione importante E continuiamo a parlare di sanità ma in questo caso però andiamo nello specifico nell'area di Monbaroccio dove il sindaco Emanuele Petrucci ha replicato la precedente intervista esternata dalle consigliere regionale Andrea Biancani che prevedeva un dimezzamento dei posti letto nelle nascente ospedale di comunità della stessa Monbaroccio Io ho visionato quanto è il comunicato del vicepresidente del Consiglio regionale Biancani il quale dice che i 15 posti letto vanno a deficitare i 40 posti letto di RSA Bricciotti mi dispiace che venga fuori questo paragone perché sono due questioni totalmente diverse i 40 posti di letto di RSA Bricciotti rimangono l'ospedale che verrà realizzato e ieri abbiamo fatto un altro sopralluogo con la sessoressa Altamartini e con la dottoressa Storti per dare anche un cronoprogramma di quelli che potrebbero essere inizioi lavori probabilmente previsti per aprile prevederà una nuova struttura integrativa al Pricciotti che vede 15 posti letto probabilmente e potenzialmente potrebbero diventare anche 30 che vanno a integrare la sanità territoriale nell'ottica di quelli che sono la riduzione delle liste d'attesa un ospedale di comunità a Monbaroccio perché non è di Monbaroccio è a Monbaroccio e serve tutta la comunità permette di creare una nuova struttura all'avanguardia tecnologicamente di alto profilo a efficientamento energetico a impatto zero che serve una comunità per tutte quelle persone che devono andare in ospedale ma che prima dell'intervento e dopo l'intervento hanno una struttura che li accoglie questo permette di liberare posti letto nelle strutture ospedaliere e probabilmente sono convinto anche di abbassare quelle che ridurre le liste d'attesa quindi Biancani ha fatto un po' di confusione fra i posti di RSA, Pricciotti e l'ospedale di comunità e non è vero, come ha detto almeno nel comunicato che ho letto che i 40 posti diventano 15 e una, mi dispiace dirlo, ufala o comunque un'errata interpretazione del consigliere perché i 40 posti di Bricciotti ad oggi sono al Bricciotti e i 15 posti di ospedale di comunità hanno un altro profilo che è quell'ospedaliero di ricovero pre e post ricovero e ci spostiamo adesso a Fano per proporvi le immagini della protesta dei trattori che c'è stata questa mattina in circa 150 infatti hanno sfilato per alcune vie cittadine partendo dalle caselle autostradale le immagini in questione si riferiscono in particolare alle passaggi in via Soncino protesta contro le politiche dell'Unione Europea che continuano a penalizzare la categoria alle di là dei disagi alle traffiche i cittadini fanesi hanno per lo più applaudito e risposto a colpi di clacsoni nel transito dei trattori solidarizzando con le ragioni della protesta domani mattina ci sarà un altro corteo con una decina di trattori autorizzati a manifestare fino a ridosso del centro storico poca pioggia e neve assente già allarme praticamente per Aset e Marche Multiservizi che attraverso una nota congiunta hanno espresso oggi preoccupazione per le prospettive di criticità idriche nei mesi a venire le due aziende invocano come urgente un incontro con l'assemblea dei sindaci del lato 1 Marche Nord alla fine di definire un piano di interventi da proporre al commissario straordinario per la siccità e da 30 anni propongono un fondamentale servizio di riabilitazione per centinaia di giovani tossicodipendenti così come si prodigono nella prevenzione alle diffondersi di droghe e alcol nelle scuole del territorio parliamo di Narconon Alfiere, una realtà pesarese che oggi ha celebrato i suoi 30 anni ci troviamo da Narconon Alfiere per un'occasione importante di fatto la struttura pesarese celebra 30 anni di realtà 30 anni sul territorio di aiuto e assistenza nella riabilitazione dei tossicodipendenti e di prevenzione all'interno delle scuole contro l'uso di droga e alcol oggi abbiamo festeggiato i 30 anni di attività del Narconon Alfiere il Narconon Alfiere è una delle comunità presenti in tutto il mondo che appunto fornisce alle persone che abusano di droga e alcol un programma riabilitativo è incommiabile il lavoro che ha fatto questo Narconon, ha superato ostacoli, barriere e soprattutto anche difficoltà perché ovviamente esistono ma è stato in grado di sostenersi e portare avanti un'attività decisamente importante soprattutto perché il nostro personale è personale che a loro volta è stato formato dopo che ha svolto il programma Narconon quindi sono persone che prima hanno vissuto sulla propria pelle, molti di loro insomma hanno vissuto sulla propria pelle il problema della droga e dell'alcol e poi alla fine hanno maturato in loro la necessità di aiutare altri come loro stessi sono stati aiutati quindi sono le persone più meritevoli, più capaci soprattutto di aiutare altri che hanno stesse difficoltà perché loro stessi l'hanno superata e quindi sono in grado di spronare gli altri e uscirne Devo dire che ormai nel nostro territorio questa attività, questa struttura Narconon Alfiere c'è da 30 anni Quest'anno appunto vengono festeggiati, ricordati i 30 anni, un'attività molto importante che ha visto nel corso appunto di questi 30 anni centinaia e centinaia di ragazzi che sono venuti qui per problemi legati alla droga, per problemi legati all'alcol riuscire a rifarsi una vita e quindi riuscire a uscire da questo vortice L'attività che loro hanno fatto appunto penso che sia veramente molto importante, gli andava riconosciuta e quindi oggi ho voluto testimoniare con la mia presenza il lavoro fatto negli anni Ricordo che questa è un'attività che non prende soldi pubblici ma viene finanzata completamente da quelle che sono le famiglie di questi ragazzi che decidono di utilizzare questo sistema per far uscire appunto i loro figli o comunque i loro cari dal problema della droga Sono arrivato alla Germania, ho fatto il programma poco tempo fa Niente, trovo bene, mi mancava questo posto, lo senti che quando entri dentro comunque ti ha cambiato la vita e ti manca questo posto, è come quando ti posso fare un paragone quando non vedi tuo figlio da anni e all'improvviso lo vedi davanti così perché stacchi da tutto nonostante tutte le difficoltà che ci sono fuori che abbiamo creato noi e ti fa stare bene, stacchi completamente, ti ricordi quello che è passato il buono, il cattivo, dove sei rinato, diciamo come una rinascita e niente, questo ti fa questo effetto che ti dimentichi tutte le cose che c'è fuori cioè stacchi, stai bene, vedi i ragazzi che stanno una bomba sai come sei passato tu, quello che hai passato quello che ti ha portato il programma, tante cose niente, gioia, gioia è come andare al matrimonio, cioè se posso fare questo paragone, davvero guarda non lo pensavo che una persona poteva stare così bene e questa mattina c'è stato uno speciale docente di economia all'istituto Abramante Genga di Pesor che ha ospitato il direttore nazionale dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini vediamo Dal significato delle tasse e del prelievo fiscale al percorso storico di civiltà che oggi lo rendono un pilastro fondante della democrazia italiana questi i temi che questa mattina hanno portato in cattedra il direttore nazionale dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini e a lezione i ragazzi della Quinta Superiore del Bramante Genga scuola toccata dal ciclo di incontri divulgativi su scala nazionale che vede protagonista la stessa Agenzia delle Entrate Giriamo le scuole che aderiscono al progetto e poi l'Agenzia delle Entrate comunque va nelle scuole quando viene invitata a raccontare agli studenti cosa fa, cosa facciamo e specialmente a cosa servono queste tasse questa parola così strana e non ben voluta È un importante incontro con i ragazzi reso possibile da un progetto nazionale PESES patrocinato dall'Università del Sacro Cuore di Milano che offre la possibilità ai ragazzi di incontrare personalità del mondo dell'economia e della finanza con le quali potersi confrontare e dialogare dal vivo Credo che questo sia di un valore inestimabile perché oggi con noi c'è l'avvocato Ernesto Maria Ruffini direttore dell'Agenzia delle Entrate che intratterrà i ragazzi Presenti in Aulamagna anche il sindaco Ricci l'assessore nobile, i vertici territoriali dell'Agenzia delle Entrate fianco a fianco a studenti e docenti destinatari del seminario organizzato dalla professoressa Lorenza Rossini dal titolo Patto Democratico, Patto Fiscale la destinazione del prelievo fiscale e la sua accessibilità per i cittadini Sono tutti maggiorenni, quindi si avvicinano al mondo del lavoro e comunque all'età adulta così li accompagniamo a comprendere cosa vuol dire fare parte di una comunità e come poter contribuire anche assolvendo quando sarà il loro momento all'onore tributario, cioè al pagare le tasse Patto è una parola da riscoprire perché ci ricorda gli impegni che ci prendiamo come cittadini e la responsabilità che abbiamo a rispettare questi impegni nel corso della nostra vita insieme come parte proprio di una comunità L'istituto tecnico con un indirizzo economico e quindi i ragazzi ovviamente hanno delle competenze sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista di economia che permettono di affrontare determinati armi Studiando nel settore economico, diritto e economia politica diciamo siamo proprio chiamati in prima persona a interessarci dell'argomento Inoltre avere il direttore nazionale dell'Agenzia delle Entrate ospite a scuola da noi è un evento molto importante e che siamo felici di accogliere a braccia aperte Studenti che hanno interagito con Ruffini a partire da un quesito baricentrico A che servono le tasse? E come si fa a capire chi evade le tasse? E la sosta libera ai margini del centro storico perde altri 20 stalli Tanti sono diventati blu a pagamento nel parcheggio di Porta Rimini di fronte alla Caserma del Monte Una decisione anticipata dalle comune a fine gennaio per recuperare alcuni dei posti sottratti alla ZTL per l'installazione delle ecoisle di conferimento rifiuti I parcheggi blu saranno infatti gratuiti per i residenti della stessa zona a traffico limitato E domani, sabato 17 febbraio alle ore 10 nella Sala delle Consiglio il Comune di Pesaro e Ali Autonomie Locali Italiane sosterranno l'iniziativa Ine Dialogo per una cultura di pace promossa dalla rete italiana Pace e Disarmo un incontro di lancio per la giornata di mobilitazione nazionale che si trà il 24 febbraio in tutte le città italiane per chiedere il cessato il fuoco in Palestina ed in Ucraina e per dire no a tutte le guerre e no alle riarmo Sarà presente all'iniziativa il sindaco Matteo Ricci il segretario generale CGL Maurizio Landini E anche il Comune di Monte Grimano Terme ha deciso di aderire già da quest'anno all'itinerario della bellezza il progetto di promozione e comunicazione turistica di Confcommercio Marche Nord Stretta di mano oggi fra i sindaco e i rossi il direttore di Confcommercio Marche Nord da Merigo Verotti che accoglie il 25esimo Comune aderente all'itinerario E continua il viaggio di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 alla scoperta dei 50 Comuni del progetto 50 per 50 Capitali al Quadrato Questo weekend si conclude con la settimana da Comune Capitale di Apecchio mentre da lunedì inizierà quella di Pergola Vediamo Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura continua il suo percorso di capitale diffusa Dal 18 al 25 febbraio sarà il Comune di Pergola a diventare protagonista del progetto 50 per 50 Capitali al Quadrato con un ricco calendario dal titolo Loro Blu Siamo finalmente nel vivo di questo progetto per il quale ringrazio fortemente l'amministrazione pesarese per aver coinvolto tutto il territorio e tutte le città e anche i piccoli comuni della provincia Nella prossima settimana numerosi saranno gli appuntamenti promossi e realizzati e partecipati dalle numerose associazioni locali Saremo lunedì mattina con l'apertura di questa settimana e l'inaugurazione delle installazioni urbane a cura della Proloco Poi si proseguirà anche martedì mattina ad esempio un appuntamento a cui parteciperanno anche gli studenti perché sarà dedicato alla collezione Piccinini e dal titolo Pietre che cantano Nel pomeriggio ci sarà un appuntamento promosso dall'Unilit Il mercoledì passeremo poi alla musica con un'iniziativa a cura del coro pergolesi molto importante che vede il coinvolgimento, non sarà solo un concerto, un'esibizione ma una performance con il coinvolgimento di altri cittadini che potranno partecipare e prendere parte a questo laboratorio Si proseguirà poi con delle visite guidate delle visite a dei luoghi della città a cura della Proloco come Casa Sponge e la Rebel House dove venerdì sera avremo questo importante concerto con Motta che sarà presente a Pergola e poi proseguiremo sabato con l'inaugurazione della mostra e domenica anche con gli appuntamenti promossi direttamente da Pesaro 2024 quindi legati agli aperitivi con i prodotti d'op della provincia e l'iniziativa volta a scoprire i castelli nascosti Siamo molto felici oggi di presentare la settimana di Pergola perché Pergola è stata tra l'altro una delle ispiratrici di alcuni progetti di dossier a partire dal progetto che origina dal Guado che ora dà il titolo anche al progetto dell'Oro Blu che viene presentato questa sera e soprattutto ha messo in campo nei sette giorni una programmazione veramente ampia che va dalla valorizzazione del patrimonio artistico a partire dai bronzi di Pergola con una sala didattica che darà anche ulteriore vita e frequentazione ai musei che già funzionano benissimo e anche tanto contributo di artisti contemporanei La nostra funzione è quella di accompagnare i visitatori che raggiungono Pergola per fargli visitare quei posti che normalmente magari sono chiusi e quindi non facilmente accessibili noi quasi a tutte le ore del giorno e della notte senza esagerazione ovviamente però rispondiamo alle chiamate alle convocazioni che ci arrivano anche tramite il Museo dei Bronzi Dorati La settimana prende il nome blu l'oro blu appunto da questo progetto generale che è blu il colore della cuccagna che tocca sei comuni e che esplode nel comune di Pergola l'oro blu in realtà è la cuccagna la cuccagna significava il benessere il benessere dei produttori del guado su Pergola in qualche modo questa che è una tradizione dell'entroterra marchigiano diventa qualcosa di importante l'arte contemporanea si fa propria di questo concetto e lo trasforma in qualcosa di straordinario con una serie di artisti importantissimi che si hanno declinato l'oro blu l'oro, il blu e l'oro l'oro blu è una mostra che accoglie 38 artisti tra le più importanti presenze sul panorama nazionale e internazionale e porta un confronto aperto tra le collezioni d'arte antica e il linguaggio contemporaneo Capitale della cultura che significa anche cibo e Pesaro da ieri è il suo secondo piatto tipico ufficialmente bollato come deco ovvero piatto di denominazione comunale vediamo di che piatto parliamo oggi c'è stata la riunione con la commissione 9 del comune di Pesaro e la commissione d'eco quindi oggi usciamo con un altro risultato per la città di Pesaro quindi un nuovo piatto tipico con la certificazione d'eco denominazione comunale che parliamo delle tagliatelle di Novilara quindi c'è stato un dibattito dove ci siamo confrontati e siamo arrivati al nominativo che sarà le tagliatelle di Novilara con i fagioli questo valorizza il borgo di Novilara e poi come sappiamo Novilara da dieci anni ogni anno in estate abbiamo quell'evento che appunto è dedicato alle tagliatelle abbiamo due ristoranti in questo luogo ma questo nulla toglie agli altri ristoratori di poter presentare il piatto tipico di Novilara questo è un modo per tenere vivo il borgo ma nello stesso tempo valorizzare le imprese del nostro territorio ogni turista, lo dico sempre prima di partire per un viaggio la prima cosa che fa guarda su Google quali sono i piatti tipici bene oggi noi ne abbiamo due e a breve sicuramente ce ne saranno altri due quindi noi abbiamo le mare e i monti in questo caso abbiamo due anni fa certificato il passatello di pesce in brodo e adesso appunto andiamo nei monti e quindi valorizziamo le tagliatelle con i fagioli i prossimi piatti che ci sono arrivati sono arrivati a una richiesta da Villa Fastigi quindi un altro quartiere della nostra città e poi abbiamo anche avuto una richiesta da alcuni ristoratori che riguarda la pasticciata pesarese e poi come sappiamo tutti abbiamo la pizza rossini e concludiamo il nostro telegiornale parlando di sport proprio fra pochi minuti sarà in campo l'Ital Service e Pesaro Calcio 5 alle Palamegabox per il match di campionato con la Meta Catania l'Ital Service che arriva ad affrontare questo match è forte di un nuovo sponsor che è stato presentato questa mattina sono tante le aziende che fanno da partner all'Ital Service Calcio 5 esattamente 22 quindi adesso ce n'è una nuova di tutto rispetto e che segue esattamente la filosofia i principi della vostra azienda assolutamente sì per noi è motivo di grosso orgoglio riuscire ad attirare a portare aziende così importanti nel mondo del Calcio 5 nella famiglia dell'Ital Service ci deve solo rendere orgogliosi per quello che stiamo facendo per come stiamo lavorando e per come ci stiamo comportando sono tutte aziende leader portarle in questo mondo della nostra famiglia penso che sia qualcosa di straordinario io come ho detto quando ho preso il Calcio 5 ero in Serie 2 non avrei mai pensato che aziende del livello di B4PET e VIP Italia potessero affiancare questa nostra realtà ci siamo arrivati quindi vuol dire che qualcosa di buono e di positivo abbiamo fatto siamo con il dottor Vito Gatto di VIP Italia che è un macro gruppo che coinvolge anche B4PET B4PET sarà il logo che noi vedremo appunto in campo a partire dalle prossime partite allora raccontiamo intanto della vostra azienda VIP Italia è un'azienda italiana fatta da imprenditori italiani che ha circa 20 anni di anzianità trattiamo materie prime tecnopolimeri e commodities e negli anni ci siamo concentrati anche nel mondo del riciclo delle materie plastiche un business parallelo a quello che è quello della distribuzione delle materie prime ci ha appassionato particolarmente a tal punto che il Border nel 2020 ha deciso di acquisire due aziende del settore in Italia che operano nel mondo del riciclo delle bottiglie in P&T questo matrimonio è stato particolarmente felice l'azienda in 4 anni è passata da 15 dipendenti a 50 dipendenti da un fatturato di 5 milioni a 18 milioni di euro stiamo continuando ad investire nel mondo del riciclo perché riteniamo che sia una delle strade forse per quello che ci riguarda la più importante nell'ambito dell'economia circolare B4PET che è una società benefit cosa vuol dire? Le società benefit sono società che oltre al profitto quindi oltre a puntare al profitto economico si impongono si auto impongono altri valori gli impatti valori vengono definiti come valori di impatto i valori di impatto possono essere di natura ambientale o di natura sociale cosa vuol dire nello specifico? che la società cerca comunque di darsi degli obiettivi da rispettare che sono obiettivi non solo economici quindi numeri di bilancio ma sono anche azioni che possano migliorare l'impatto ambientale della società quindi con delle politiche nel nostro caso di migliorare i processi ottimizzazione dei processi evitare i consumi di risorse ogni consumo di risorse evitato è un minore impatto ambientale e migliorare gli impatti che possono essere di natura sociale partiamo con una cifra importante per provare a salire provare a salire vuol dire provare a mettere il nome nelle maglie il prossimo anno e poi se ci dovesse essere anche una proposta di diventare main sponsor perché no noi l'accettiamo perché ecco io penso che come ho detto la forza e la ricchezza di questa società non è tanto la figura del presidente del patron che si sono importanti perché fanno da collante ma molto sono anche questi sponsor queste aziende che comunque ci hanno affiancato e ci danno sostegno a 360 gradi da un punto di vista economico ma non solo e con quest'ultima notizia di sport termina qua questa nuova edizione del nostro Rossini News prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo vi ricordo la programmazione in onda questa sera infatti alle 21.20 potremmo vedere lo speciale tv dedicato alla nuova location che spetterà al mercato del settore alimentare delle San Decenze uno speciale che abbiamo registrato martedì mattina dove appunto è stata l'ultima mattinata per quanto riguarda la vecchia postazione posizione del mercato del settore alimentare che dal prossimo martedì il 20.00 di febbraio vedrà una nuova location e ne potrete sapere di più in questo speciale televisivo vi ricordo anche la nostra rassegna stampa domani mattina siamo in diretta alle 7.20 in diretta anche sulla nostra pagina facebook sul nostro sito e sulla nostra app le repliche alle 8.20 12.20 14.20 18.20 domani mattina a farci compagnia ci sarà il nostro Antonio Astuti e io vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi a farci compagno di serata